Jack, Olly con l'acqua, abbiamo due Olly, belli sono, è arrivata Scandina, poi c'è Lu e poi c'è Tango, è arrivata anche Luna, prego, prego Luna, è stata una distanza compatibile. Ora ve li presento un po', non sono abituale a tutta questa gente, quindi sono un po' intimoriti, però è anche giusto che credano che le persone sono sedenti sui tempi e non magari li hanno lasciati per strada. Allora, si presenta Olly, prego, Olly con l'acqua, è un mare in mano un po' tipico perché lui è alto, snello, è super popoloso.